Cristo vive, è una frase che un po' tutti conosciamo, diciamo, abbiamo ascoltato, ce lo ripetiamo nel cuore e soprattutto una verità che ultimamente ha ripetuto Papa Francesco. L'ha ripetuto non solo e soprattutto ai giovani ma a tutta la Chiesa. Nella sua esortazione post-sinodale è quel documento che il Papa in genere scrive dopo un sinodo. Tutti ricorderanno che la Chiesa ha celebrato un sinodo con i giovani, mi piace dire così, più che sui giovani. Un sinodo con i giovani dove la Chiesa ha cercato di ascoltare i giovani e i giovani hanno dato il loro contributo ascoltando la Chiesa stessa. Giovani cristiani e giovani non cristiani o giovani indifferenti alla fede. Bene, il Papa ha fatto questa esortazione, questo documento che si chiama Christus vivit, cioè Cristo vive. Io vorrei in queste ultime puntate per questa stagione di Dritto al Cuore cercare di lasciarci provocare, iniziare da me, da alcune bellissime, profonde, vere ma anche inquietanti espressioni che il Papa ha utilizzato in questa lettera. Molti appunto l'hanno chiamato lettera. Il Papa stesso dice che è una lettera rivolta in particolar modo ai giovani, ma alcune volte parla ai giovani, ma parlando ai giovani parla a noi, cioè parla comunque al popolo di Dio, parla alla Chiesa e altre volte parlando alla Chiesa parla ai giovani. Io l'ho letta, l'ho studiata, l'ho iniziata anche a presentare un po' nelle varie comunità dove sono stato invitato. Allora ho pensato di fare un regalo ai nostri telespettatori, di fare un regalo a quelli che seguono Padre Pio TV e di fare un regalo a quelli che seguono Dritto al Cuore. E così, di tanto in tanto, vi dirò qualche espressione. La prima espressione che mi piace dire e ripetere con Papa Francesco è questa. Cristo vive, lui è in te, lui è con te e non se ne va mai. Cristo vive. È una provocazione che dovremmo sentire dentro, nel cuore, per vedere se effettivamente Cristo vive nella mia vita, Cristo vive nella tua vita. E il Papa, dicendolo soprattutto ai giovani, ci dà un grande messaggio, perché la vitalità nei giovani è molto più intensa che nelle altre fasi, diciamo, della vita. Deve essere intensa sempre, ma nei giovani è particolarmente sentita. Allora, per esempio, quando io vedo giovani sorridenti, felici e giovani che credono in Cristo, allora dico Cristo è veramente vivo. Cristo è vivo veramente, ma questo Cristo vuole che non solo i giovani, ma tutti, anche i non credenti, anche i non cattolici, siano vivi. Il mondo, la Chiesa ha bisogno di uomini e donne vivi, ma ha bisogno soprattutto di cristiani vivi, perché Cristo è vivo e Cristo vuole che io e tu siamo vivi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!